Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo a minecraft che serve direttamente una scheda grafica dedicata quindi in questo caso se vi esce un errore che avviate minecraft però non ha rilevato nessuna scheda grafica nel vostro pc quindi non potete giocare a minecraft con questo metodo possiamo anche risolvere il problema riguardo al lag e fare anche più fps su minecraft quindi in questo caso avviate un attimo minecraft andiamo direttamente su gestione attività una volta andate su gestione attività vai a trovare così l'applicazione qui sui processi java tra parentesi tm tra parentesi platform sb inati clicchi qua su questa freccia vai su java apri percorso file una volta fatto teniamo così aperta la cartella di java e andiamo direttamente su impostazioni grafica sfoglia e andiamo a prendere così quindi in questo caso copi così questo percorso file della cartella che è aperto in java e lo inserisci qua ed eccolo qui e vai a prendere java con w alla fine e fai aggiungi una volta fatto scendi fino a giù vai su opzioni e metti la tua scheda grafica prestazioni elevate e fai salva una volta fatto chiudi un attimo tutto e riapriamo così minecraft ecco minecraft quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'errore riguardo alla scheda grafica per minecraft e non avere più problemi di lag e aumentare gli fps sul gioco iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao